Cercasi Schiavo leggono così i sindacalisti dell'USB la richiesta di manodopera stagionale da parte soprattutto di operatori dei settori del turismo e della ristorazione che in molti casi offrono impieghi sottopagati e con turni di lavoro massacranti. Noi abbiamo fatto un sondaggio interno nei nostri gruppi di lavoratori e vediamo che almeno due lavoratori su tre sostengono di lavorare più ore rispetto a quelle che hanno da contratto. L'80% dei lavoratori almeno sostiene di venire pagato meno del minimo sindacale che già abbiamo detto che è basso e addirittura c'è un 20% di lavoratori che sostiene di aver avuto degli infortuni senza essere assicurato e un 15% che ha questa diffidenza verso le istituzioni di controllo stesse per degli episodi a cui ha assistito. Il sindacato di base contesta le critiche al reddito di cittadinanza da parte di imprenditori che propongono condizioni di lavoro inaccettabili. Le persone sono a spasso e tutto il confronto tra quanto è l'emolumento del reddito di cittadinanza e quanto sono questi stimenti dichiarati c'è una differenza abbastanza grossa e quindi chiunque avrebbe voglia di guadagnare di più soprattutto se è una famiglia a carico e allo stesso tempo lo riteniamo un primo testello di una narrazione ancora più grande che cerca di colpire la povertà alle fasce più deboli di popolazioni tant'è che anche le dichiarazioni sul salario minimo che abbiamo visto vanno in questa direzione. Per combattere lo sfruttamento dei lavoratori stagionali l'USB ha chiesto all'ispettorato del lavoro controlli più intensi soprattutto nel periodo estivo. Purtroppo il 70-80% dei contratti che girano all'interno del settore è in nero o in grigio le ore lavorate sono molte di più di quelle lì dichiarate in busta paga e spesso e volentieri addirittura la busta paga non esiste proprio. Chiaramente questo qui è una competenza diretta dell'ispettorato del lavoro e siamo qui per chiedere un incontro e disporre a loro la situazione. Crediamo che sia fondamentale avere più controlli sui luoghi del lavoro anche per aumentare le sicurezze sul luogo del lavoro. Siamo in un paese che fa tre vittime ogni giorno.